Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole Anni 92.000, oggi per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di Tatiana Maccagno, vi parlerò della discoteca Altro Mondo di Alba. E allora siete pronti? Vai con le Pillole Anni 92.000 di oggi! Prima di iniziare a parlare della discoteca Altro Mondo di Alba, vi dico anche che mi era stato richiesto il Makey di Bra, ma su cui non ho trovato materiale, né informativo né sotto forma di video. Se qualcuno di voi l'ha vissuto in prima persona e lo vuole raccontare, però scrivetemi e ci organizziamo per mandarlo in onda. Per quanto riguarda invece l'Altro Mondo di Alba, è una discoteca storica di Alba in provincia di Cuneo, molto in voga negli anni 90 e nei primi anni 2000, soprattutto per i giovani della zona. Per un periodo si era fatto chiamare anche White XL, per poi tornare con il suo nome e riproporre serate il venerdì notte con la serata Rendezvous, l'unica serata della provincia in perfetto stile University Night torinese, con i resident DJ Roberto Molinaro, Gianluca Argante e la musica che proponeva era R&B, house e commerciale, e poi l'house privé. Il sabato notte invece era una serata per tutti, con DJ Anthony Lewis, musica hip hop, R&B e commerciale. Tra gli ospiti di spessore si annoverano anche Gigi D'Agostino e i Dari nel 2009. Vi faccio vedere un estratto del 2007 ma con un brano degli anni 90. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete lasciato, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, ringrazio Tatiana Maccagno per avermi suggerito questo video, se avete dei correttivi o delle integrazioni fatemelo sapere nei commenti così farò un ulteriore video integrativo, mentre invece se volete raccontare voi in prima persona le vostre esperienze legate a questa o ad altre discoteche, scrivetemelo sulla mia pagina Facebook o Instagram, ci organizziamo con una call e sarete voi in prima persona a raccontare le vostre esperienze. Ci vediamo alla prossima!